Simone Anzani è stata una bella vittoria, la seconda consecutiva che arriva. Sì, sì, è stata una partita... era difficile perché comunque loro sono una squadra che si entrano nel ritmo, si è vista nel secondo set e possono metterci in difficoltà, ci hanno messo in difficoltà, però devo dire che siamo stati molto bravi nell'affrontare con la giusta mentalità questa gara dopo un'eccellente vittoria ieri contro gli Stati Uniti. Niente, ci portiamo a casa questa seconda vittoria che ci va solo che bene e aspettiamo di giocare domani contro il padrone di casa. Come sarà? Sicuramente penso che sarà un'atmosfera molto calda perché sarà il palazzetto pieno, giochiamo contro una squadra che è tra le primissime al mondo, quindi dovremo fare quello step successivo per dimostrare che questo gruppo sta crescendo e può fare molto bene. Noi ci proveremo fino alla fine e dopo, logicamente, nello sport vince chi gioca meglio, alle volte, ma soprattutto chi ci crede, quindi noi ci cambiamo e domani affrontiamo la Russia con questo spirito. Grazie.